Io preferisco lei, voglio soltanto dire questo. Come possiamo silenziare le polemiche di oggi, no? Fraccaro, sottodimensionato, nel rapporto col Parlamento, si chiama... No, Fraccaro ha un ruolo meraviglioso ed è molto contento da quello che so e che ho visto nelle nostre riunioni. L'accusa di ieri, i retroceni di ieri raccontano di una litigata tra Conte e Di Maio perché è l'uomo di Casaleggio, no? Si fa giornalismo anche per scrivere cose un po' che facciano vendere, che riempano le pagine. Io ho visto un grande lavoro, Riccardo e Conte si conoscono da tempo, hanno già lavorato insieme. Quindi lei smentisce ogni tipo di frizione tra Conte e Di Maio sul nome di Fraccaro e sul ruolo che dovrà avere all'interno? So che fra queste tre persone c'è un grande rapporto e hanno già lavorato molto insieme. Grazie.